Secondo l'associazione russa che offre assistenza legale alle vittime di repressione OVD Info, sono 387 le persone arrestate in Russia dal 16 al 18 febbraio, dopo la morte di Alexei Navalny, l'oppositore russo deceduto nella colonia penale IK3, nella regione russa di Yamalonyenez, venerdì 16 febbraio. La polizia russa ha fermato centinaia di persone per aver lasciato un fiore, un biglietto o essersi semplicemente recati in uno dei tanti memoriali spontanei apparsi nel paese dalla notizia della morte di Navalny. Ancora nessuna notizia chiara sulla causa del decesso del politico russo, che stava scontando una pena di oltre 30 anni di reclusione. La famiglia ha accusato le autorità russe di aver deliberatamente nascosto il suo corpo per coprire le tracce di quello che sostengono sia un chiaro atto di omicidio. Per il momento non sarebbe stata effettuata alcuna autopsia. Continua il ricordo di Navalny anche in Europa. Centinaia di persone si sono riunite domenica 18 febbraio vicino alla sede dell'ambasciata russa a Berlino per protestare per la morte in carcere di Alexei Navalny e contro il presidente russo Vladimir Putin. Poco prima dell'inizio della manifestazione, il collettivo Pussy Riot ha annunciato e svolto una propria manifestazione. Grazie.